Il pomeriggio che avevi il cuore fermo, non c'era nulla che fosse normale, non le rotaie del tram, né le vetrate della scuola materna. Eppure si facevano tutte le cose, il saggio di psicomotricità del più piccolo, la scuola estiva nel cortile dell'oratorio e poi preparare qualcosa per cena. E pensavo tutte le cose, quello che stava accadendo a te, e corravi gli spostamenti tutto il resto, le donne, le ragazze, i treni, tutto. Però non c'era nulla che fosse normale, o meglio, tutto era come sempre, ma immerso dentro una luce diversa, diversa senza poter dire come. E il giorno prima tu mi hai scritto che sai che per me l'amore ha complesse sfumature inquiete, ma per te è anche semplice, mi ami perché siamo parte di una stessa cosa ed è vero così. E poi io, in quella luce diversa, il pomeriggio che avevi il cuore fermo, ho fatto casino e ho cancellato i messaggi. E per un attimo ho pensato con terrore che se le cose fossero andate nel modo peggiore, avevo cancellato il tuo ultimo messaggio che parlava d'amore. Sono un po' tragico, sono un po' tragico, scusa, lo so, poi tutto è andato bene. Non dovevo pensare a quel pensiero, ma l'ho pensato, perché c'erano tutte le cose intorno normali e nessuna era normale. Grazie. 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 Grazie.